La riforma pastorale della Diocesi di Bologna con la costituzione delle zone pastorali e l'ormai comune raggruppamento di più parrocchie sotto un unico parroco è il contesto nel quale si è tenuto il primo incontro diocesano dei consiglieri parrocchiali per gli affari economici con il Cardinale Arcivescovo e con gli organismi diocesani preposti alla gestione amministrativa. Gli oltre 700 consiglieri parrocchiali hanno partecipato da remoto all'incontro inaugurando una stagione che vorrebbe implementare la collaborazione e l'integrazione tra i vari livelli del territorio e del centro diocesano. È uno degli auspici del Cardinale Zuppi che ha introdotto i lavori moderati dall'economo il diacono Giancarlo Micheletti e dalla sua vice Sabrina Gruppioni. Sì oggi è un'occasione in cui lanciamo il nuovo sistema per il rendiconto economico delle parrocchie per cui è un'occasione appunto di incontro tra gli uffici della Curia e le parrocchie proprio in questo senso. C'è questo nuovo sistema che dovrebbe permettere diciamo una collaborazione più fluida intanto proprio tra le parrocchie e anche tra le parrocchie e gli uffici della diocesi diciamo. Insieme a questo ci sarà anche il lancio dell'inventario parrocchiale, un altro strumento sempre in questa direzione. Il tutto si basa su una piattaforma informatica che dovrebbe esattamente in termini tecnologici aiutare questo tipo di collaborazione e di scambio di informazioni. Siamo qui oggi per parlare di rendicontazione parrocchiale per un cambiamento e un'opportunità per le parrocchie di entrare in contatto più diretto con la diocesi in questo ambito spesso sconosciuto o comunque ritenuto non principale per la missione della parrocchia. In verità è verissimo la missione della parrocchia è una missione pastorale però se alla base noi possiamo garantire un buon governo e quindi una corretta amministrazione sarà garantita di conseguenza anche la funzione, la missione principale che è la missione pastorale della parrocchia. Parrocchie grandi e parrocchie piccole, ognuna importante, ha ribadito il cardinale, con le loro eredità spirituali e storiche che devono essere conservate ma anche accresciute e allargate, semplificando la gestione per concentrarsi sulla priorità della missione ecclesiale. L'Arcivescovo ha incoraggiato l'impegno delle parrocchie alla digitalizzazione degli strumenti amministrativi per facilitare la collaborazione con gli uffici diocesani e la trasparenza. UNIO è una nuova piattaforma informatica su cloud elaborata insieme al servizio informatico della CEI che vuole aiutare la organizzazione e gestione sia amministrativa, gestionale e pastorale di tutte le parrocchie. È uno strumento che si lega in maniera forte con anche la gestione della diocesi in modo tale che tutte le realtà parrocchiali siano sempre più integrate e coordinate insieme alla diocesi. L'Arcivescovo ha ricordato che molte delle offerte che entrano nelle casse parrocchiali provengono anche da persone povere e questo deve responsabilizzare a utilizzare i beni con particolare diligenza, con distacco, ma anche senza affanni. La Chiesa è molto più povera di quello che appare e la pandemia lo sta mettendo sempre più in evidenza. La nostra diocesi ha la disponibilità dei dividendi della FAAC che per volontà del Cardinale Caffarra sono interamente destinati ai poveri. L'Arcivescovo ha lodato le iniziative di autofinanziamento delle comunità grandi e piccole attraverso le sagre in particolare, ma non ha mancato di esortare a trovare forme nuove e aggiornate di corresponsabilità anche nella gestione materiale che consente alla parrocchia di svolgere la sua missione per l'annuncio del Vangelo, la celebrazione della fede, l'educazione e il servizio ai bisognosi.